Allora, siamo qui oggi con Falasca, Gianmarco Falasca, centrompista centrale della Lazio anche qui insomma a fare le visite mediche qui in Paideia per le idoneità fisica insomma, come è andato? Tutto bene? Tutto a posto Tutto a posto? Ok Senti, ecco, voglio dirti, l'anno scorso insomma siete arrivati in finale che aspettative avete diciamo per questa stagione che sta per venire insomma per la primavera? Che aspettative avete? Speriamo di ripetere l'annata dell'anno scorso magari con la vittoria stavolta in finale perché il gruppo c'è, l'allenatore è molto preparato quindi speriamo di andare bene